salve e bentornati in questo nuovo video ultimamente ragazzi ho concluso una vendita su subito.it tramite il sistema tutto subito e voglio raccontarvi un attimo la mia esperienza perché sicuramente dopo questa mia esperienza io non utilizzerò più questo servizio quindi voglio spiegarvelo per bene e farvi capire un attimo insomma il tutto e se posso dire la mia evitate sia di vendere e sia di acquistare da tutto subito e ora vi spiegherò perché prima di iniziare ovviamente si ricorda di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella per non perderti nessun nuovo video premetto che chi mi segue da tempo sa che io porto vari contenuti sul mio canale insomma di tutte le mie esperienze comunque personali lato vendita e business online questa roba qui e oggi appunto vi voglio parlare di quello che mi è successo con tutto subito proprio per farvi un attimo schiarire le idee a tutti insomma e capire un attimo come funziona bene il sistema allora tutto subito è questo nuovo sistema di subito.it che è più o meno in circolo da qualche anno che permette un po emulando ebay di fare vendita diretta con pagamento a tutto subito cioè subito chi acquista manda i soldi a subito subito trattiene i soldi e dopodiché quando tecnicamente dovrebbe andare tutto bene subito sblocca i soldi al venditore. oramai che cosa è successo ho messo in vendita una strumentazione una mia vecchia strumentazione che utilizzavo qualche anno fa l'acquirente mi ha chiesto poche informazioni nonostante ci fosse tutto scritto e ci fossero foto e mi diceva vabbè quanto costa la spedizione io gli ho detto guarda mi informo e ti dico dopodiché mi fa la proposta di acquisto io l'accetto e spedisco la merce se sei un venditore è quello che devi sempre fare ti consiglio di fare sempre i video quando prepara il pacco perché io il video l'ho fatto cielo qualora dovesse servirmi ed è una delle prove che ti può servire in caso di contestazione quindi una volta spedito il pacco ci sono messo più o meno quattro o cinque giorni ad arrivare ho comunicato tra che di spedizione all'acquirente e solo ieri dopo tre quattro giorni è arrivato lui mi dice ok il pacco è arrivato solo che c'è un problema avevo messo chiaramente le foto dell'annuncio e il tipo mi fa no ma non è come da annuncio a tal che io ho detto ma guarda c'erano le foto avresti potuto vedere meglio le foto e ma non si vedeva bene quindi anche in questo caso colgo l'occasione per dire a chi acquista di chiedere video foto se non siete convinti di quello che fate quindi che fa apre la contestazione apre la contestazione a subito e qua devo dire subito una cosa che non mi è piaciuta cioè subito ragazzi non ha un fottuto numero di telefono cioè io se voglio comunicare devo essere costretto a mandare la mail se poi si ricordano di rispondere mi rispondono quindi sinceramente è un sistema molto molto lento e non mi piace assolutamente perché io in passato ho fatto tante vendite con ebay e l'assistenza di ebay è sempre a disposizione quindi tanta tanta roba ebay in confronto a subito subito può essere buono magari se volete fare acquisti insomma con scambio a mano quindi quando magari avete qualcuno che vi contate ciò che lo voglio insomma per mettersi in contatto quindi poi si vede la trattativa si conclude da sé ma nella gestione di tutta questa roba qui mi trovo a dare proprio non zero stelle ma sotto zero a tutto subito perché ovviamente non non è proprio al 100 per cento per questa roba cioè devono modernarsi un attimo comunque ora c'è questa contestazione aperta io mi auguro che ovviamente si chiude a mio favore perché lato mio è tutto a posto oltretutto io ho già delle recensioni positive a 5 stelle sul mio profilo a differenza dell'acquirente che non ne ha e quindi questo per quel che vi posso dire è importante perché in caso di contestazione subito va a vedere questa cosa quindi quindi insomma fate attenzione cioè cercate di guardarsi particolare perché ovviamente se loro chiudono la contestazione a vostro sfavore è perché hanno fatto delle valutazioni e insomma non si può fare altro quindi ora vedrò come si evolve la cosa però ragazzi veramente è ridicola ma soprattutto perché cioè io ho messo le foto il tipo fa no ma io non me ne sono accorto fratello mio là sono cavoli tuoi cioè nel senso io le ho messe se non vedi che magari ha delle modifiche all'oggetto e mi dici ok io le voglio originali cioè capite bene che ragazzi veramente di persone in giro ce ne sono tante io ho fatto la mia vendita magari vi aggiorno su come si evolverà la cosa nel frattempo fammi sapere se anche a te è capitata una cosa del genere perché veramente io non so più che dire e se questo video comunque ti è piaciuto e ti è stato d'aiuto ti invito a lasciarmi un like in modo tale che possa continuare a portare contenuti di questo tipo